e benvenuti ad un'altra emozionante figura di cacca qui con me c'è james tdc fitz nuovo pro player reclutato esclusivamente per valorant no sto scherzando stai scherzando col pro player scherzando reclutato solo per valorante con lui giocheremo a siftir l'abbiamo già visto e giocheremo anche ad altri giochi forse con lui prossimamente nuove chi è qualche volta possiamo farci anche una sfida a questa qualche cartuccia se ci giochi volentieri l'unica cosa che io le carte nuove non ne conosco mezza di fatti le devo sbloccare ancora sono quasi un anno che non ci gioco più io sarà 22 anni ero c'era ancora l'affare del corvo di fatti ho visto che sono uscita almeno tre o quattro edizioni nuove se non di più se non 5 6 partita trovata la cosa bella di quel gioco che praticamente ti fa usare le carte delle nuove edizioni quindi meno male comunque anche se smetti di giocare da un po riusci lo stesso a rientrodurre e a rientrodurti essere competitivi poi se fai la selvaggia potrei essere forte perché di carte vecchie ne avevo un casino c'è tre o quattro sessioni che ci avevo giocati insistentemente quindi ce l'avevo quasi tutte quasi ha quindi sviluppato un loop di gioco interessante ma ti dico c'è stato aspetta non mi ricordo che se a zone era comunque se riesci scegli il personaggio c'era una season quella dove c'era il regno dei ghiacci lì il cavaliere nero quella lì che c'avevo praticamente tutte le carte perché mi c'ero spaccato avevo speso anche un casino di soldi nel gioco tipo avevo comprato qualcosa come 150 pacchetti e comprati fisicamente no 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 con le monete del gioco perché avevo accumulato come adesso un casino di monete per me ero messo lina ho comprati misti avevo trovato quasi tutte le carte di tre le edizioni che servivano per giocare in quella stagione lì a me era piaciuta quella stagione lì della scesa degli antichi ho un casino di carte di quello ho creato un loop che era micidiale qualsiasi carta mi veniva riuscivo a farla combinare con altre assalto quasi se dicevo una partita cioè perdevo una partita su tre quattro una bella mese ero riuscito a farmi un mazzo mi sembra col druido molto interessante assalto in una spagna ok viene 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 di qua noi tim arroganza va va sempre sul lato e hai il ritorno di audio bassi per me non è un grosso problema chiederemo poi nostri telespettatori il solito mio audio lo sentono anni di live piazzato la bomba l'ho fatto ma è un solo nemico ricarico ricarico e niente ci sembrerebbe che stiamo andando bene ma io non ho ancora visto mezzo nemico sei in un brutto punto james te lo dico perfetto siamo più quando sei qua poi nasconderti o qua dietro dove sono adesso loro finis si sente invincibile e ci ricorderò la sua allora o dietro questa questa acqua oppure dietro quest angolo qua non so se li vedi te l'ho marchiati nella mappa ok parerò prima di non stare la mappa per me proprio questa è la peggiore del gioco in produzione fa più danno coltello si difatti quando c'è sta modalità spesso rincorrono gli avversari col coltello se non sono distanti chilometri blocco visione ok c'è un nemico laggiù occhio in alto niente c'è qualcuno che li sta uccidendo tutti ma non sono io l'ho ucciso solo perché era fk sappiatelo ragazzi si chiama opportunismo esatto bruta chi ha di partono ultimo round prima del cambio comunque sì se riesci abbassalo giusto un pelino perché sento l'eco degli spari metti metto le cuffie no 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 fai tranquillo faccio senti forse sì sì la mia voce l'ho risentita mentre parlavo ma fa niente non si preoccupare visione bloccata occhio niente assist siamo qui il quattro visione bloccata occhio sono escono da questo buco qua 30 secondi rimasto e c'è la kill gioia nemica devi uscire da quella specie di barriera che vedi perché sennò ti paralizzi ultimo giocatore rimasto già si succede cambio posizioni o con peta così ci divertiamo tu dai la vista io la prendo o il peggiorantissimo vieni 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 che con questo ci divertiamo comunque ogni tanto prova ad usare anche tipo la tua c che aumenta la velocità di fuoco quindi con sto qua che ha pochi colpi potremmo fare potrebbe essere una buona idea oh cazzo ce ne tre lì fuori se sali su no sono dietro di te stanno andando a piazzare lì nella base sulla destra ti consiglio di farti il c per terra occhio tempismi pessimo tempismo vai che piaccia il riparo poteva essere buono sì il riparo non era malvagissimo almeno eri un po' coperto tanto vedo che anche i nostri compagni se la cavano bene ultimo giocatore è rimasto e niente tra l'altro sono uno in meno guardate di restare in contatto che stiamo unicare e segregari la vittoria si sono ancora messo di modificare modificare i tasti mannaggia ma perchè a ghiaccia su qua che cazzo è stato c'è qualcuno in qui sta piazzando ai vai che piazza vai che piazza vai che piazza vai che piazza nemico abissima poi nato stai là dietro ricarico e ultima è pronta infierire sul cadavere vai vai infierisci tutto ok dai forza metto prendiamoci prendiamoci dove vuoi guarda è tempo di saltare in aria ok ho che uscirà da quella porta qua dal lato sinistro mi conviene scappare vieni qua ma lontanati un attimo che sono ti paralizza vedi quel cerchio lì sì sì ok siamo salvi vai che piazza cazzo la piazza ah dall'altra parte vieni 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 sono in b sono nemico morti cazzo è trovata questo qui mi trova tutto il pochino crociato vittoria dei difensori questa città è di nuovo al sicuro mi dai due secondi arriva adesso lo stesso è caricato partita il nostro pro player ci sta quando ci sei dimmelo che faccio ripartire un'altra spighe e ringraziamo Samu che ci sta guardando ciao Samu buona buona vai vai allora si va di spike 2 o se vuoi facciamo già la non competitiva dimmi no dai facciamo una spike e poi la non competitiva va bene va bene partita trovata partita trovata con eco doppio doppia potenza potato 23 dai lo confio messa Ale, da noi ce n'è uno, due, undici addirittura Abbiamo già perso, mi, James, sappilo Ai ai ai, ai 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 Devi sapere che quando distrugge uno così alto di livello fa cagare 190, cazzo, no, da me c'è un assalto spy, ricarico Ah, pure scioppone, pure scioppi, e mi spara, cazzo spari, scemo di guerra, ti taglio la gola Non è andata bene Ti ho giocato, zoccoletta Ok, mi sarà bloccato lo schermo Ci si vede Eh, sono tutti lì dietro il fuoco L'occhio che da là sopra arriva qualcuno probabilmente Eccolo, spara, spara Ricarico Nemico avvistato in B Buttagli da Q Premi Q e sparagli lì Occhio, occhio indietro, indietro Ricarico Consiglio di andare fuori sulla destra e sparare una smitragliata Prima il giocatore è rimasto Grazie, non è così Non so come cazzo ha fatto prendermi Eccolo Vabbè, però dovremmo aver vinto lo stesso Ormai esplode Vittoria tattica Sì, si fa Proviamo il punto debole e azzaniamolo Se vuoi usare le tue abilità con cura Mettiti tipo qua dietro Tipo qua E mettere omogeni Ok, devo ancora capire No, cazzo E niente Ma massacrata anche a me Non vedevo più niente Se mi ha preso Visione bloccata Quando sei in quei casi lì Che sei acciccato Spara cazzo Te spara Beh lì abbiamo il generale Che è potentissimo 30 secondi rimasti È il generale E ha fatto fuori anche l'ultimo L'ultimo round alla fine del tempo Sappiamo il fatto nostro Fidiamoci gli uni degli altri E andrà bene Siamo tutti dalla stessa parte Dove vuoi? Andiamo dove c'è il generale Andiamo dove c'è il generale Vai andiamo al generale General Hai generale Assicurare la zona Dai forza Io me lo sto andando proprio a cazzo duro Senza fuori Lo sappiamo Guardatelo A chi tocca? Manca un solo nemico Ma che facciamo il perfetto Dai Adesso lo dico Moriamo tutte e due Come minimo Vieni che chiudo la porta Ok È dietro È di sopra No Attenzione Ci credo Non ho sparato Anche un colpo Cambio posizioni Forza Abbiamo da generale Il generale è venuto Bravo generale Io ho capito Gli ha giocatore fermato Le carico Blocco visione Arrivo Manca un solo nemico 30 secondi rimasti Vittoria Vittoria dei difensori Bella dai Due su due Due su due Addirittura Questo general Dai che sono arrivato A livello 5 Ok dai Si va di non competitivo Aumentiamo Tiriamo sull'asticella Che figuraccia ieri Cos'è che abbiamo fatto 13 a 4 Beh guarda Abbiamo visto di peggio Una volta Cioè più di una volta Con mister wolf Abbiamo perso 13 a 0 13 a 1 Partita trovata Lì si che sono scopole Appena arrivato il messaggio Che i server sono tornati attivi Ale Non partirà Perché c'è già due Che vogliono Lo stesso personale Oh Ha cambiato Bravo Pensa che non parte la partita No parte invece Jojo Jojo team No Niente Jojo Potatus Team patata E di fatti non ha capito Un picchio Di fatti ha preso Jimmy Gurukuru E fratellino Ma tanto non parte Perché non ha scelto Gli avversari Peccato Partita trovata Perché la difficoltà Della partita È data anche in base A Di abicità Cioè Di abicità Di livelli Di passato Più che altro A rango Più che a livelli Perché uno può essere a livello Ma fa Paffa Un culo Ma ha fregato Il personaggio E Più che altro Uno può essere anche a livello Uno Ma essere fortissimo È legato Più che altro Al rank Perché se te vedi Eh no Non lo vedi Perché non sono classificati Nelle classificate Qua di fianco Al nome C'è anche una specie Di triangolino In base a quel triangolino Di che colore è Mostra il risultato Di quella persona Nella stagione precedente Ho capito E se quello lì C'ha Dei triangolini Di un colore Elevato Vuol dire che Nella stagione Precedente Era forte E 99 200 Era forte Nella scorsa È forte anche In questa Sì Certo Giustamente Sì Bene Da noi ci abbiamo Un 1 E un 2 Potrebbe essere Una partita Estremamente Promettente O è estremamente Una merda No invece 26 19 22 10 12 Devi sapere Che questa mappa Quagliola Odio Abbastanza Ti sgozzo Troia Mi hai rubato Il personaggio Questa L'ho visto Troia E guarda dove Se ne va Sto Defici Lì 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 Un culassor Ta lì Seguimi James Non ti fidare Di loro C'è già La torretta Lì Un nemico Avvistato Al centro Cerca E spacca Help Curami E non mi cura Sono deficiente Sto facendo Kill Ma non vuole Curarmi Piazza La quarta Piazza Lì Tieni premuto Quattro Quattro Piazzata Adesso Nasconditi Ok Sono tutti Sopra Di te Il consiglio Di attenderli Tanto devono andare Dalla bomba Occhio Bravo Bravissimo C'è anche L'altro Che è lì No È dall'altra parte È È dietro Quel muro Lì che Stai guardando Il nemico Occhio L'hanno L'avete Ucciso E tra l'altro Il nostro Giocatore Coso Non sta Giocando Quindi siamo Uno in meno Però abbiamo Vinto Ora sì Che si Balla Avanti Così Perfetto C'è Ammetto Che mi è andata Di culo Ho notato Che stai Troppo fermo Devi muoverti Cerca di muoverti Non stare Fermo In un punto Ho sentito L'affare Ma non ho capito Dov'è Vai vai Piazza 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 Non so Chi L'ho fatto Ma tu ce l'hai Manca un solo nemico È morto Quello laggiù Quindi Nascondiamoci Ok È andata Vi ho fatto pochi Incrociare Ultimo giocatore Rimasto Ora so Quanto può dare Fastidio Quello che faccio Prendi la bomba James Ok Che tanto Il nostro Tizio del fuoco Simpaticamente Sarà di nuovo FK Vai ed esplori Morto Fuori da qui Piazza Quattro Devi tenere premuto il tasto Quattro Adesso arriverà Da qua O da là No Ok Stanno facendo il giro Lungo Quindi arriverà Andata Lo nemico Ok Gli snack Mi sforzo di restare seria Ma è troppo divertente Prendetelo Ah lo scudo Devo prendere Scordazza Piri piiri 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 pi cazzo cazzo è sopra forse l'avevate già ucciso il problema è che c'ho 18 di vita tra l'ha nascosto la dietro come cazzo faccio a vederlo faccio sbagliato sento dei passi e non sono i nostri spike a terra in a è quello sono i nostri compagni che sono morti malamente subito quindi poi purtroppo non c'ho il personaggio che può curarsi ci avessi reina potrei fare le mie magie ma fregata sto tizio qua quindi non posso curarmi uccidete la mia copia stiamo giocando quattro contro cinque arriva da dietro e qua due in meno grazie occhio di c'è un manco a destra ricarico ah no l'avete già ucciso bravi ragazzi se sto qua curasse visto che è il curatore non mi dispiacerebbe una cura ok uccido fantastico cosa abbiamo tutti puntato sul stesso versario ma devo dire che con la fantomi mi trovo abbastanza bene ma è la secondo me una delle armi migliori del gioco il fanno infatti non ho ancora cambiata e è anche abbastanza stabile come con gli spot che facciamoli ballare che arrivano da dietro visione bloccato ok sono ammazzato no 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 sono tranquilli adesso sono morto spike a terra nella base attaccata elimino la spike bravo finalmente c'è il cecchino che fa il cecchino sei da su ma il cazzo eh io da distante col mitralino non è che posso fare stiamo qui perché siamo i migliori non dimenticatelo dai proviamo a cambiare giusto per lì lì serve aiuto andiamo diciamo io alla cambiamo lato facciamo la maniera diversiva che non sarà devo fare esplodere qualcosa tanto loro probabilmente arrivano dal mezzo noi andiamo corriendo di fatti non c'è nessuno dimmi dove piazzare qua esattamente qua vieni vieni adesso nasconditi o qua o nel container di sopra o nell'angolino qua qua che non però sappi che siamo comunque molto scoperti qua possono arrivare letteralmente da tutte le parti eccoli qua è qua e James è da sto lato qua è lì occhio perda eh vabbè dai forse è il punto l'abbiamo portato a casa lo stesso non in maniera molto gloriosa il mio potere non vacilla chiedete è un tenuto e lo riceveremo uno in meno anche esatto quindi dove volete andare o vogliamo andargli direttamente incontro a sto giro oppure uno si mette qua sopra e l'altro qua sopra salì saltando sopra le bravo eccolo lì centro non arrivano gli altri aspetta aspetta nasconditi James ah cazzo cazzo fanno dai non ucciderai i miei alleati ah ho capito però andate 30 secondi rimasti e va fanculo lo sapevo sono uscito ma non c'è ultimo giocatore rimasto perché sti coglioni non si decidono a piazzare è nata una vita a piazzarla sì per forza piazzarlo in A o in B giusto? quello sì però se vedi che c'è uno che ti sta tenendo il punto lì e che i nemici stanno venendo a cercare lui e non ti stanno cagando vai a piazzare visto che c'è la bomba tra l'altro adesso resti basta che vada un alleato lo riporta in vita e siete in due contro uno invece di star lì col cecchino che se ti arriva vicino ti trivella vabbè mi è andata di culo che quell'altro ah non si era mosse era lì ok mi rimangono solo 78 granate speriamo che bastino abbiamo vinto per culo culo sappiatelo due volte di filo perché Dani protato di l'asse è nata da FK adesso siamo a 4 contro 4 dove volete andare? io andrei in B facciamo poledrine saltare in aria lì arriva la festa esplosivi lasciati occhio che c'è uno ok non c'è più sono tutti là su in cima vai che a terra è in B occhio fategli le bombe sono lì sopra sì ho la spy e resta invece di stare a fulgare rest x rest and place numero 4 devono piazzare loro la spy eh no noi ce l'abbiamo c'è la sto coglione qua che non sta piazzando ma che non è una piazza 30 secondi rimasti che tra l'altro non resta c'è la mossa speciale per risuscitare gli alleati ma non c'è il nemico dove sta sparando lui vaci a dare una mano perché c'è il cecchino se no non lo uccidete più bravo James e che caccia la mia roba non ha mai fatto cilecca dovremmo festeggiare sì comunque questo qua è un coglione no te le prendere perché l'hai buttato lì al fanto no no allora perché non beh l'avevi già comprato sì se l'avevo già comprato vabbè te lo frego io se lo vuoi te vedi ci vicini allora pessima idea andare di nuovo di qua aspetta visto che vuoi andare di qua andiamo qua spai che a terra in b come cazzo fatti un cecchino chi è che manca ah manca quello lì non è un problema ho la spike la mia città ha bisogno di me non posso stare via troppo ci sta andando con un po' di culo ma vabbè culo mi sembra un parolone eccessivo io le mie sporche mietiture le sto facendo comunque si io uno o due le ho fatte dai riproviamo di qua in mezzo con un po' di culo aspetta e sto arbor pink lo sta facendo un cazzo a terra ci vediamo io faccio di nuovo doppietta non so dove sia l'ultimo portatore a terra oh cazzo spike a terra in b ok so dove è l'ultimo eh si ci sta massando uno dietro un altro ultimo round prima del cambio se avete risparmiato se volete qualche arma strana se io è l'ultimo no non è l'ultimo si si è l'ultimo è l'ultimo ricarico eh allora vado giù di cattiveria dove andiamo a b in mezzo dai vabbè andiamo in mezzo direttamente vieni 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 segui c'è una strada oh cazzo non me l'aspettavo spike a terra in b il nuovo input pressa no madonna press press x o la spike e niente non ce la fa come cazzo si chiama a ar ba o nemico avvissiato in b press x ali la spike a terra in b niente sto qua non capisce un cazzo dove cazzo va guarda come muore malissimo perché aspetta troppo piazzarla ma non è che aspetta troppo guarda trolla adesso lo reporto per trolling sabotaggio squadra cambio posizioni ma porca cioè ma si può perdere per un coglione così ci può pensare qualcuno ricarico l'avrà capito che era riferito a lui dubiti dubiti sì ah e vabbè per te che era manito ci diamo di qua se non vengono di qua andiamo dall'altro lato stanno arrivando vai che a terra in b vai ed esplodi troppo capite c'è un nemico qua occhio james troppo c'è un solo nemico tre per me eh ma ha ucciso il quarto occhio che sta arrivando cazzo fatto si sparo e non muore va bene e se ne va ma già bene che reina qualcuno lo ammazza e non fa come air ping lì air idiot cazzo ciao cazzo sono in a probabilmente aspetta ricarica fai che piazzata perchè spacca eh ma ho ucciso perchè avevo più un cazzo di vita che mi aveva ucciso l'altro e sto qua non cura non sa manco cos'è la cura è lì sopra idiota è lì sopra mamma mia occhio che è lì sopra james non vai dai se l'ha sommeritata sto round siamo valorant siamo guerrieri siamo fieri mi serve qualcosa vediamo se sto coglione mi compra almeno l'arma no deciderò di no testa di cazzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vai che a terra in a tanto sono solo batteria e a me serve una carina sono solo parole vedi un buon nascondiglia quell'angolino qua dove nascondersi prima va scoperto vanno di cerchino non sono di qua sono in b bike piazzata adesso morirò all'istante da sopra di me sopra dovrebbe essere sul tuo lato destro mi conviene scappare non ho visto non capito dove cazzo fosse no che l'avevo probabilmente sotto di mano mi mancano due giusto se per vincere si vai james voglio far vedere te che fai tre kill adesso sto rambo no si sono in b sono in b ultimo giocatore rimasto che cazzo che è stata ma vaffanculo che lo risciate e niente non ho ucciso uno ma ho ucciso l'altro in realtà ne ho uccisi due preparatevi e occhi aperti ah sì 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 ma non ho avuto tempo anche perché non avevo manco i cosi per ricaricare vabbè andiamo direttamente in vita anzo sembrerebbe che vengano sempre di qua non ci hanno fatto nemmeno un grazio adesso come minimo sono tutti dall'altra parte no no ci sono ma ma ho ucciso 124 gli ho fatto ma porca trai ma per la cuore è rimasto sono piazzati tutti lì sono in quattro praticamente eh ma io sono morto è rimasto solo l'oregno è giocata bene sì e aspetta grazie a sprizzi05ita per il nuovo follower adesso cioè stavamo vincendo 11 a 4 stanno giocando compatte adesso loro prima giocavano più 1 grecavoli suoi da fatto come si fa adesso proviamo a giocare noi compati e vediamo arriva la petta ma vaffanculo non è morto spike a terra in b la spike è lì cioè occhio leva di ma è lì dietro manca l'ultimo è qua dietro non è lì il giocatore rimasto è dietro di me è dietro sti cazzo di container li vedi lì a destra che c'è conviene scappare perfetto dai che adesso va a prenderle sto qua lo uccide se furbo 30 secondi rimasti dai che piazzata non andare piano tanto lo sa che sei lì che lo stai inseguendo blocco visione dai brava almeno fa sta giocando bene adesso e poi se non va a disattivare non ti tenere più disattivarlo deve far finta e staccarsi che cazzo lì però è troppo tardi momento decidi ma rimma buca io stanno recuperando eh poveri cani seria 4 di fila ne ho vinto ho capito però cioè io ho fatto 40 kg non è che posso farne mi sembra di uccidere però non è che posso farmi tutto il team nemico tutte le volte c'è la gioia a vedere che vanno i nastroji nooo cazzo vai ed esplode e b manca un solo nemico tre per me minchia due ne ho ammazzati no tre ne ho ammazzati mi mancava solo questa qua che stava andando ad ammazzarla adesso match point la loro testa è nella ghigliottina giustizia cosa facciamo andiamo l'ignoranza si si guarda io c'è già il razzo missile pronto appena escono gli sparo il razzo missile nelle gengive come una cosa sola arriva la festa occhio che c'è qua dentro solo che fai che a terra in b dai cazzo ho compito a tre volte in zona testa voleva aspettarlo ultimo giocatore è rimasto che cazzo dove c'è il container di sviluppo grandissimo il punto della vittoria ebbè 615 46 kill mi sembra buono direi di si direi di si cioè ho fatto quasi il triplo dei punti del secondo mi sembra buono dai buono anche te jims comunque i tuoi sporchi punti li hai fatti hai ucciso anche cinque persone rispetto alla media anche degli altri hai fatto un buon punteggio guardate di culo devi muoverti un po' di più devi prendere un po' più di confidenza e non aver timore eh sì sono più da c sei un po' immanciato sei lì fermo eh perché non sono conosco la mappa non sono così tanto bravo con con la tastiera sempre stato il mio mio deficit eh buon allora è arrivato messo attivi server di si of this vuoi farne un'ultima partita magari una spike dimmi te si dai ho una spike poi io vado a dire intorno partita trovata un minore un quarto più o meno vediamo se i nostri fan scrivono qualcosa o no il nostro team arroganza ah c'è sprizzi 05 ita che chiede se può giocare con noi guarda prossimamente sì oggi magari no però nei prossimi giorni paio di più li facciamo giocare tanto noi giochiamo spesso anche alla sera se vuoi scrivimi intanto il tuo nickname che ti aggiungo agli amici se sei online gli altri ci stanno impiegando un po' a scegliere non ero io che ero distratto e non avevo visto che non avevo scelto il personaggio ti hanno rubato il tuo personaggio preferito? no 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 tanto nelle spike uso personaggi diversi e quello che uso nell'altra modalità è nell'altra perché mi ci trovo meglio ma anche con raid in verità me la cavo abbastanza bene solo che di solito la usa mister wolf quindi gliela lascio a lui che almeno ci si trova meglio beh sì poi se ti specializzi con un personaggio più che lo massimizzi non è che lo massimizzi ma conosci le sue abilità conosci le sue distanze dove lanciare le cose capisci che ogni personaggio è diverso tipo il tuo brimstone con la Q spari la granata di poco che rimbalza devi prenderci un po' la mano devi capire come far la colombella per proprio capire dove piazzarla però se non lo usi non ci prendi la mano devi usare più lo usi un personaggio più capisci le sue abilità e come utilizzarle sì 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 giustamente tipo hai visto io che nella partita di prima col mio lanciavi i saccottini per terra e saltavo sui muri quella lì è una tattica in più assalto spike sì perché te non dici ah quel personaggio lì non può salirci lì sopra invece io tiro il saccottino e ci salgo sopra e non te l'aspetti tipo adesso potrei salire qua sopra esatto sono il ninja del villaggio della folla quello l'area abbiamo un arcienio legolas occhio ce n'è uno qua qua dietro drone attivo occhio che è ricarico ricardo stordente esatto è lì vabbè a questo punto faccio il giro e come sono rotto le palle da aspettare 30 secondi non lo vedo grande gioco avvistato 10 dietro l'ultimo giocatore è rimasto niente hanno massacrati col pistolone vecchia la mani l'esperienza di prima adesso ci abbiamo ero pompato velo l'area posso le vostre trans ricarico ma perché sto qua ha fatto la barriera qualcuno al centro occhio sono dietro di noi c'è lei proprio di fianco che mangiante grano io e niente non va sta partita stiamo prendendo l'ultimo round alla fine del tempo e poi con l'arma siamo a posto andiamo dall'altra parte tanto ci aspettano sempre per due volte fino dalla stessa parte ma io sono razzo missile sparo il razzo missile nelle loro valvole o almeno ci provo l'idea era questa poi me ne vado via me ne vado via sono sulle vostre tracce rollo più avanti sparo tutto di qua attivo questo dico a vista lo stordente vola energetico a terra e ho buttato roba non so l'arca non preso trovati 30 secondi rimasto a terra ultima manca un solo nemico sto giro andata meglio eh no esplosivi lanciati esplosivi lanciati occhio c'è qualcuno in B dove cazzo l'abbiamo messa la bomba le pause cambia posizione inizia a vacillare ricarico io lo chiamavo botta di culo sembrano veramente le piazza le piazze di venezia uguale le piazzettine piccole vediamo il nostro esploratore james eh ho girato un po' all'italia vai the golden army manca un solo nemico come dici drone sei pronto a spiegare i reali cazzo di cittadino di merda ricarico state pronti cazzo assordente ho fatto una doppia con la granata senza nemmeno vederlo adesso provo la tristina oh ma ce n'era una anche qua quadrupla la cosa bella è che li sto uccidendo senza minimamente mirare vado senza mirare col cecchino perché lo trovo un'arma molto più efficace così match point la tazza è finita non riuscire 4 col cecchino senza mirare è bellissimo l'ingegno di potenza estrema adesso doppia ma che è un solo nemico gli ho fatto 93 è qua dietro sta accendendo tutti quello lì non ho carico e abbiamo vinto vittoria dei recuperoni che recuperone ho già riempito i messaggi da favore e niente la mia fortuna sfacciata ha colpito ancora niente io saluterei i nostri amici della live grazie per averci seguito e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti